La scorsa notte il comitato di protesta Battipaglia di Cenò che protesta contro l'arrivo di nuovi rifiuti in città si è recato presso l'ex stir di Battipaglia e l'impianto di compostaggio di eboli per capire quale possa essere la provenienza dei miasmi che stanno nuovamente rendendo feti dall'area cittadina. Con mascherine sciarpe per proteggersi dalla puzza circa 10 manifestanti hanno fatto visita ai due impianti pubblici. Secondo i membri del comitato Battipaglia di Cenò proverrebbero cattivi odori in tutte e due le strutture da appurare se però siano questi olezzi a creare problemi serie ai cittadini. Sembra che anche dei camion siano entrati ed usciti poco dopo la mezzanotte. Una cosa è certa, proseguono le lamentele che ormai da settimane avanzano i residenti, specie quelli di Sant'Anne e Taverna delle Rosi a pochi metri dalla zona industriale di Battipaglia. Insomma si attende l'intervento delle istituzioni preposte per fare indagini e verificare i motivi degli odori sgradevoli.